Gli azzurrini degli sport invernali sono in partenza per Innsbruck, dove venerdì 13 gennaio ufficialmente si aprono le Olimpiadi Invernali Giovanili 2012. A presentare a Trento la squadra di giovani promesse tra i 15 e i 18 anni, il presidente del CONI Giovanni Petrucci. Il CONI nel DNA ha certamente quello di ottenere risultati, però anche quello di diffondere la pratica sportiva, la pratica agonistica e io mi auguro di quei ragazzi divertitevi. Il ministro per il turismo e lo sport, Pietro Gnudi, a cui è stata regalata la maglia del team azzurro, ha ribadito i valori dello sport. Voglio dimostrare, vorrei dimostrare che il mio primo impegno come ministro sarà soprattutto per i giovani. Io credo che l'importanza dello sport sia un fatto educativo per i valori dello sport, lo spirito di sacrificio, lo spirito di squadra, la capacità di impegnarsi, che credo che sia uno dei fattori fondamentali per arricchire il capitale umano del paese. Sponsor ufficiale del CONI è Kinder più Sport. Kinder ha affiancato lo sport italiano, tante federazioni sportive, perché ama lo sport, ma ama soprattutto lo sport a livello giovanile, lo sport di base. A fare gli auguri agli azzurri, Karen Puzzer, una veterana della valanga rosa. Per cui, forza azzurri!